I militari della Guardia Costiera di Soverato, nella sola settimana di ferragosto, hanno sequestrato un totale di 956 attrezzature balneari lasciate incustodite in spiaggia, portando così ad oltre 2.200 oggetti sequestrati durante la stagione balneare. Oggi è stato ispezionato invece il litorale del comune di Simeri Cricchi, dove alcuni cittadini avevano installato in maniera permanente 524 attrezzature da spiaggia con l'intento di occupare il posto. Anche questi reperti sequestrati sono stati affidati in custodia giudiziale all'amministrazione comunale. Le operazioni di polizia marittima continueranno anche nei prossimi giorni al fine di scoraggiare comportamenti illeciti.